E qui è passato il tempo e queste graduatorie non sono state fatte scorrere. Questo fatto crea quindi un incidente non solo di tipo burocratico e amministrativo, ma anche sociale e politico. Infatti questa caratterizzazione anomala di non scorrimento delle graduatorie, nonostante ci sia il favorlex, le sentenze costituzionali, adesso c'è anche l'appoggio politico e anche il benestare della parte della politica, perché la politica si è resa conto dell'errore che stava facendo, in quanto la legge Matia non dice di stabilizzare dei precari così presi in maniera sommaria da qualsiasi bando pubblico o avviso, come è stato fatto in questi anni dalle O e delle ASP calabresi, ma dice un'altra cosa molto più precisa, che se ci sono dei precari, che hanno fatto un percorso dimostrato di professione sanitaria, come è giusto che sia, all'interno delle O e delle ASP calabresi e possono attestare questo, ma hanno partecipato comunque a un concorso pubblico, allora verranno stabilizzati. Ecco la parola chiave, concorso pubblico. Gli donnei si caratterizzano perché sono dei personaggi, questi ragazzi che vediamo, donne e uomini calabresi, lavoratori onesti, padri e madri di famiglia, circa mille, ed è una cosa indecente lasciare mille persone che poi, come sappiamo noi, con il medium della famiglia italiana si parla quindi di 3-4 mila persone che devono mangiare, è veramente vergognoso lasciare queste persone a casa quando sono gli unici che hanno superato un concorso pubblico e si sono abilitati e qualificati come idonei, quindi dimostrano già con questa partecipazione al concorso di avere superato dei test e delle prove, ma poi si abbina anche un fatto che è innegabile, tutti questi personaggi hanno un'esperienza nel campo sanitario, qua è più scarso, ha anni e anni di lavoro, quindi che cosa stiamo dicendo? Siamo stanchi, scusi, concludo, siamo stanchi di sentire chiacchiere, qui non c'è niente da dire, non è un fatto, ripeto, di semantico o di burocrazia, qua è un fatto sostanziale, di giustizia sociale, di giustizia politica, ma anche una risposta al Paese, perché la Calabria è una grande regione, io sono siciliano, ma amo la Calabria perché ho fatto il liceo a Reggio Calabria, la Calabria è la magna Grecia, la Calabria è la cultura, è il cuore del Mezzogiorno, è l'ultima regione d'Italia, ma è una cosa meravigliosa questa Calabria, e come la dobbiamo portare avanti, come la dobbiamo sviluppare? Se non pensiamo non partiamo dalla sanità, l'altro giorno il ministro Speranza, che ci contatta in continuazione, anche Pierpaolo Sileri per carità, che è il nostro antagonista per eccellenza, elettivo direi io, perché con noi sta avendo un colloquio veramente a questo punto efficace, cosa dice Speranza e i suoi assessori? Ah, e anche i viceministi, la sanità è la perla dell'Italia, la sanità è il punto nevralgico, la sanità è il punto più importante, allora se il punto più importante partiamo dalla giustizia politica, partiamo dalla giustizia sociale, partiamo dall'affermazione della legge, abbiamo una Costituzione, la Costituzione cosa dice? Che ogni persona ha diritto di manifestare il proprio talento, le proprie inclinazioni e in quelle deve essere appoggiato dallo Stato, questi hanno dimostrato quali sono le proprie inclinazioni, hanno vinto un concorso e cosa dice la Costituzione sempre? Che in Italia si entra in un lavoro a tempo indeterminato, posto fisso, superando un pubblico concorso, ed è quello che hanno fatto questi signori, questo è quello che vogliamo noi, lo scorrimento delle graduatorie, degli doni, perché hanno un favorlex che grida, vendetta, non fosse altro per un fatto di giustizia ed equità, ripeto, sociale. Quindi chiedo scusa se mi ripeto sui concetti, però era doveroso chiarire, fare questo freambolo. Allora Simone Scandale è uno dei protagonisti di questa manifestazione, nonostante gli appelli, le rivendicazioni che avete fatto in tutti questi mesi, siete ancora qui a rivendicare un vostro diritto. Sì, appunto, siamo qui oggi per chiedere, con l'aiuto dei Sicobas che stanno arrivando, sottolineo da Messina, perché in Calabria purtroppo nessuno ci ha voluti mai aiutare in questa battaglia. Siamo qui per accelerare i tempi delle assunzioni, perché sono usciti tutti i fabbisogni, manca solo il fabbisogno dell'aspe di Cosenza, e parliamo di tantissimi numeri, tantissimi numeri potrebbero assumerci tutti, darci questo benedetto contratto indeterminato che stiamo inseguendo da tanto. E appunto adesso con questa emergenza Covid che è venuta fuori, per fortuna adesso sembra stia calando il problema Covid qui in Calabria, non è cambiato nulla, hanno fatto solo assunzioni a tempo determinato, ma vi ripeto, poteva essere l'occasione per assumerci tutti a tempo indeterminato e risolvere questo annoso problema dello scorrimento delle gradatorie.